Le persone che in seguito al falimento del loro legame matrimoniale hanno intrapreso una nuova unione, i cosiddetti divorziati e risposati, non sono scomunicati e non vanno trattati come tali, perché fanno sempre parte della Chiesa. Lo ha ribadito Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta questa mattina in Aula Paolo VI, la prima dopo la pausa di luglio, dedicata alle famiglie ferite. Il Papa ha ricordato che la situazione di queste persone contraddice il sacramento del matrimonio cristiano, ma la Chiesa è maestra con un cuore di madre e quindi deve innanzitutto discernere le situazioni, ricordando la differenza tra chi ha subito la separazione rispetto a chi l'ha provocata e guardando ai nuovi legami con gli occhi dei figli piccoli, quelli che soffrono di più queste situazioni. Del resto, come potremmo raccomandare a questi genitori, di fare di tutto per educare i figli alla vita cristiana, dando loro esempio di una fede convinta e praticata, se li tenessimo a distanza dalla vita della comunità, come se fossero scomunicati, in effetti queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate e non vanno assolutamente trattate come tagli, esse fanno sempre parte della Chiesa. Nelle comunità cristiane, grazie al magistero di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, è molto cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna e attenta accoglienza nell'amore e nella verità verso i battezzati che hanno stabilito una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale. Devono poter vivere sempre di più la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa, ha concluso Papa Francesco, che è chiamata ad essere sempre la casa aperta del padre, niente porte chiuse e le famiglie cristiane sono chiamate a collaborare col buon pastore, prendendosi cura delle famiglie ferite.